Allora Cane Yosha, oggi andiamo a incontrare il premio Oscar. Certamente, noi andremo a vedere i nuovi film cinematografici. Va bene, prendiamo l'aereo. Bene, siamo in Hollywood. Cosa possiamo vedere qui? Ci sono tanti film che non abbiamo mai visto. Certo. Entriamo per vedere la festa di Academy Award. D'accordo, entriamo dentro. Grazie anche voi, Cane. Gentilissimo. Le nuove proposte di adezione vengono considerate a scendenza annulare fino alle 2007. Per ciascun anno venivano annunciati i nomi di coloro che erano stati invitati a partecipare quell'anno oggi. L'Academy non rivela pubblicamente il nome dei suoi membri. Bene Cane Yosha. Noi siamo andati e abbiamo visto che ha vinto un signore anziano che si chiama Anthony Hopkins. Happy Hopkins ha vinto il premio Oscar del miglior attore. Certo. È stato bello visitare Hollywood. So. Sì. Sono commosso. Qua. Grazie. Grazie.